Egregia Champion Vending Company Né dolore Feel this Se vuoi aggiustare qualcosa Devi rispare tutto E capire cos'è davvero importante Sono Karen Moreno della Champion Vending Company La chiamo in merito alle sue lettere di reclamo Deve parlare con qualcuno in particolare? Le chiamate di servizio le fa sempre alle due del mattino? Lei ti manca? Prova a non pensarci Non ci posso credere Uno sconosciuto che mangia a casa nostra Questo signore ha perso la moglie Abbi un po' di comprensione Perché non sei a scuola? Mi hanno sospeso Il motivo? E adesso che facciamo? Dispiamo il mio matrimonio Era amore tra me e Giulia Ma non me ne sono preso cura A proposito della bella attrice inglese Naomi Watts Ha fatto il suo primo lungometraggio For Love Alone nel 86 A 18 anni Pochi anni dopo ha recitato in flirting Accanto a Nicole Kidman Le due si erano conosciute prima del film Quando si sono presentate a un provino per uno spot E hanno preso poi il taxi insieme Da quel momento Naomi e Nicole sono diventate amicissime Pensa che Naomi ha fatto anche datata Ai figli della Kidman e Tom Cruise Poi tra i suoi amici colleghi ci sono anche Mark Ruffalo Kate Hudson e Sean Penn La bella Naomi doveva recitare la parte di Catwoman In Il Cavaliere Oscuro e Il Ritorno del 2012 Ma fu considerata troppo vecchia per la parte Il ruolo è poi andato a Anne Hathaway Di 14 anni più giovane Vabbè Invece lei stessa ha rifiutato il ruolo della donna invisibile In I Fantastici 4 del 2005 Che poi ha interpretato Jessica Alba Ultima curiosità sui cachet dell'attrice Per Inferno a Grand Island del 96 Ha preso 5.000 dollari Invece per King Kong del 2005 Ha preso sempre 5 ma milioni 5 milioni di dollari Beh giustamente si è rifatta Per oggi è tutto Ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti